Buonasera e ben sintonizzati sul muro del pianto dei mass media. Oggi con il tema acqua potabile, diritto umano oppure oggetto di speculazione? L'acqua, indispensabile per la sopravvivenza, è un diritto umano. Secondo la Commissione dell'Unione Europea, questo però deve cambiare. Bruxelles richiede per la prima volta che il Portogallo e la Grecia vendano e privatizzino i loro diritti sull'acqua. Una prima testa di ponte all'apertura del mercato per la privatizzazione dell'approvvigionamento idrico in tutta Europa. L'acqua come prodotto da commerciare? L'82% della popolazione si esprime contraria, poiché si sa che questo porta inevitabilmente all'aumento dei prezzi fino al 400% ed ad un peggioramento della qualità dell'acqua. Vogliamo rispondere alla domanda? Se l'acqua potabile è un diritto umano o un oggetto di speculazione? Bruxelles ha già risposto e deciso che farà affari di miliardi con l'acqua. Quali altri drassi che conseguenze porterà con sé una tale decisione presa contro la volontà del popolo? Con questa domanda vi lasciamo. Grazie per il cortese ascolto. Buonasera.